Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Frist Addiction. Io sono Marco Bracca e sono un appassionato di orologi. Ho finalmente tra le mie mani il nuovo Tudor Black Bay 58 ed è finalmente arrivato il momento di fare una recensione. Prima di tutto volevo ringraziare doppiamente il mio patron Andrea, iscritto e patron Andrea, che mi ha prestato l'orologio in questione ed ha anche composto insieme ad un altro musicista tutta la musica di sottofondo del mio talk show, Orologi sul Tavolo Con, di fatto rendendo possibile la nascita di una nuova serie, quindi ti ringrazio veramente tantissimo. Ma adesso non perdiamo altro tempo e a voi il video! Il Black Bay 58 è forse l'orologio sportivo che più fa parlare di sé nell'intero catalogo Tudor, ma perché? La linea Black Bay nasce nel 2012 come reinterpretazione moderna dei classici Rolex Tudor anni 50, corona senza spallette, grafica oro e fascino vintage, un mix perfetto che ha riscosso successo nel pubblico fin da subito. Per quanto riguarda le dimensioni però il discorso è diverso, 41 mm di diametro erano e sono per molti un po' troppo, soprattutto se abbinate ad uno stile con ispirazione vintage. Nel 2018, a Baselworld, Tudor presenta lui, il Black Bay 58, molto simile ai predecessori, ma finalmente con dimensioni più contenute, 39 mm di diametro. Questo nuovo Black Bay rappresenta secondo me qualcosa di preziosissimo, proprio perché un diver così compatto e versatile mancava dal catalogo Rolex Tudor da troppo tempo, ed il fatto che l'azienda sia stata capace di ascoltare le critiche del pubblico è molto importante. In questi ultimi anni, anche grazie alle community di appassionati, non prendiamoci in giro, possiamo osservare nell'industria orologiera un ritorno a misure più contenute, e questo per quanto mi riguarda è solamente un bene. E finita questa piccola parentesi, passiamo a lui. A livello dimensionale rappresenta secondo me la perfezione, un connubio perfetto tra sportività ed eleganza. Marco, ma cosa dici? Un diver non può essere elegante. Ragazzi, non è certamente un orologio pensato per quel tipo di utilizzo, ma misure del genere lo rendono molto versatile, e possono farlo scomparire sotto la camicia molto facilmente. È molto diverso ad esempio rispetto ai nuovi Rolex sportivi, che hanno anse muscolose, secondo me troppo, e l'appariscente ghiera in ceramica. È proprio un'altra concezione, di basso profilo, ma al contempo molto affascinante. Possiedo un Rolex Submariner 16610, ed il feeling al polso e alla vista me lo ricorda tantissimo. E qui la sparo grossa, trovo più bello e fedele al passato questo Tudor rispetto ai Rolex sportivi moderni. L'inserto in alluminio genera molte critiche e fa discutere, ma attenzione ragazzi, è una scelta precisa e pensata, e non un modo per contenere i costi. Con una ghiera in ceramica, la resa estetica sarebbe stata molto diversa, ve lo garantisco. L'azionamento è preciso, ha 60 scatti, qualcosa che non si vede spesso, ed è ovviamente unidirezionale. Questo orologio dal punto di vista estetico prende ispirazione da due modelli del passato, il Rolex 6538, il famoso James Bond, e il Tudor 7924, di fatto due facce della stessa medaglia. L'inserto presenta un triangolo rosso ad ore 12, con all'interno il dot luminoso. Questo dettaglio è stupendo, ed è una vera chicca per tutti gli appassionati del brand. Il quadrante è bellissimo, ed è anch'esso molto fedeli al passato. La grafica è oro, è stampata, con il logo Tudor, e indicazioni sulla profondità massima raggiungibile, di 200 metri, e sulla cronometria. Il movimento incassato ha infatti certificato COSC, ma di lui ne parliamo tra poco. Le lancette di forma snowflake sono un elemento che non tutti apprezzano, ma sono tipiche di Tudor ed immediatamente riconoscibili. Io personalmente li apprezzo, e credo siano uno degli elementi che più caratterizzano l'orologio. Gli indici a bicchierini sono molto grandi, proprio per richiamare i pallettoni di una volta, anche questo è un dettaglio veramente affascinante. Il tutto è abbondantemente riempito di pasta luminescente, e di conseguenza la visibilità al buio è molto buona e anche persistente. La cassa è lavorata in modo pressoché perfetto, con transizioni da lucido a satinato di altissimo livello. Guardate ad esempio la qualità dei biselli, che staccano completamente dal satinato della parte frontale. Un classico di Rolex Tudor. Le parti laterali sono completamente lucide e la corona, anch'essa lucidata, riporta il classico logo del fiore di Tudor. È molto robusta e data la dimensione e l'assenza di spallette, l'azionamento è molto comodo e si avvita in modo perfetto. Il vetro, in zaffero bombato, sovrasta il tutto come una cupola di protezione, un dettaglio molto godibile che ovviamente rimanda ai morbidi plexiglass bombati di una volta. Girando l'orologio possiamo osservarne il fondello, che è molto semplice. Presenta una gradevole satinatura verticale e riporta fieramente incisioni che sottolineano la presenza di un calibro di manifattura. Il cuore meccanico che anima questo orologio è il nuovo calibro Tudor MT5402. Ormai lo sappiamo, Tudor è cambiata rispetto al passato e punta ad acquisire un'identità ben precisa e ormai distaccata da Rolex. Da qui deriva lo sviluppo di nuovi movimenti esclusivi e questo modello non fa eccezione. Questo calibro, dall'aspetto un po' spartano, nasconde però ottime specifiche. Viaggia a 28.800 alternanze ora ed ha ben 70 ore di riserva di carica, sicuramente qualcosa di comodo, soprattutto se non usato tutti i giorni. È certificato COSC, quindi estremamente preciso. Il calibro di manifattura è senza ombra di dubbio un valore aggiunto, un particolare che, anche senza dare nell'occhio, rende un segnatempo più esclusivo. Il bracciale, denominato rivettato, nella sua semplicità è veramente molto bello. È un classico oyster, ma come potete vedere, nelle parti laterali presenta una lavorazione che omaggia i vecchi bracciali e rivetti di Rolex. Insomma, lo avrete capito, tutto in questo orologio sprizza anima vintage. È molto ben fatto, con maglie piene fissate a vite ed ha una robusta clasp con chiusura di sicurezza classica. Il tutto è lavorato dal pieno e regala un'ottima sensazione di solidità e di pesantezza. Sul mio polso, da 17,5 cm, questo orologio sta divinamente. Abbraccia la pelle che è una meraviglia, ovviamente grazie alla misura contenuta. Un oggetto del genere potete dimenticarvelo al polso, ma attenzione, non sto dicendo che è leggero o piccolo, ma semplicemente che è molto comodo e di conseguenza super versatile, perfetto persino come Everyday Watch. In conclusione, trovo che il Black Bay 58 incarni al 100% la filosofia Rolex, pur non avendo una corona sul quadrante. Versatilità, linee filanti ed eleganza sono sempre state gli elementi distintivi degli sportivi Rolex, un qualcosa che purtroppo, nelle referenze a 6 cifre, si è decisamente perso. Questo orologio è perfetto per ogni tipo di utilizzo, nella vita di tutti i giorni, in ufficio e ovviamente anche al mare. È pensato proprio per questo. Se cercate un segnatempo veramente completo che vi accompagni in molti momenti della vostra vita e vi piace lo stile vintage di una volta, forse questo Black Bay fa per voi. Un orologio magnifico, promosso a pieni voti, anzi, forse il primo della classe. Ragazzi, il video termina qui. Cosa ne pensate? Lasciate un commento qui sotto per farmelo sapere e ovviamente mettete like se vi è piaciuto. Volevo ricordarvi che gli appuntamenti del canale sono tutti lunedì in live sul sito Viola alle 21, link in descrizione, ed ogni mercoledì ed ogni sabato opero qua su YouTube con un nuovo video, sempre alle 21. Volevo ringraziare tutti i miei patrons, come alla fine di ogni video, che supportano il mio canale in modo costante con una donazione attiva. Se volete aiutarmi anche voi, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Poi, beh, se non siete ancora iscritti al canale, cosa state aspettando? Cliccate questo link. Grazie a tutti!